La Camera di Commercio Sott'acqua, 5 Stelle chiedono spiegazioni e la risposta della Regione. Al via in primavera i lavori per la riqualificazione del Teatro Modena a Vaiano. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato. La Camera di Commercio ha preparato un bando per la concessione di contributi a favore delle imprese delle province di Prato e Pistoia che hanno subito danni a seguito dell'alluvione di novembre. L'iniziativa verrà presentata domani pomeriggio nel corso di un webinar. Vediamo. La Camera di Commercio di Pistoia e Prato, di intesa con le associazioni di categoria, mette a disposizione un contributo straordinario di 1.379.000 euro con il bando contributi a favore delle imprese delle province di Pistoia e Prato che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023. Il bando della Camera di Commercio che aprirà il prossimo primo febbraio, le domande potranno essere presentate fino al 29 febbraio, intende dare un primo contributo sulle spese sostenute dalle imprese immediatamente dopo gli eventi alluvionali di novembre. Al bando possono partecipare le micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore ad esclusione dei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino a 3.000 euro. È possibile ottenere un contributo pari al 100% delle spese ammissibili a fronte di una spesa minima di 1.000 euro. Le voci di spesa ammesse spaziano dalle perizie alla messa in sicurezza di luoghi e beni, dallo smaltimento dei rifiuti e rimozione di fango, acqua e materiali danneggiate, al ripristino di impianti e macchinari, includendo anche la sostituzione di arredi. Tra i requisiti e richiesti essenziali, la presentazione del modello C1, la scheda di segnalazione danni da compilare attraverso la procedura online disponibile sul portale della Regione Toscana, gestito da Sviluppo Toscana. Le domande possono essere presentate a partire dalle 18 del 1 febbraio 2024 fino alle 23.59 del 29 febbraio 2024 e saranno valutate secondo ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. Il bando è già consultabile sul sito della Camera di Commercio di Pistoia e Prato. Per illustrare i dettagli del bando, mercoledì alle 14.30 in programma un webinar informativo al quale ci si può iscrivere dal sito della Camera di Commercio di Prato e Pistoia. Il 24 gennaio alle 14.30 ci sarà un webinar in cui verrà illustrato più nel dettaglio il bando e sarà illustrata anche la procedura online per la generazione della domanda. Anche Artex scende in campo per aiutare gli artigiani colpiti dall'alluvione dello scorso novembre a richiedere contributi per i danni subiti. Simes Società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti eroga un contributo a sostegno dei danni diretti subiti dalle imprese delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. A tal proposito Artex mette a disposizione le proprie professionalità per supportare le aziende che vogliono presentare richiesta di rimborso. Il contributo a fondo perduto è del 100% per gli attivi coperti da polizza assicurativa e dell'80% per quelli non coperti. La misura è valida fino all'esaurimento delle dotazioni finanziarie disponibili. Ospedale sott'acqua. La regione risponde ai 5 stelle che chiedono spiegazioni sull'accaduto. Le piogge del 2 novembre ben superiori al dimensionamento della nuova cassa di espansione che ancora non è funzionante, i particolari, nel servizio di Dario Zona. La cassa di espansione davanti al nuovo ospedale è tuttora non funzionante e in ogni caso la sua portata e il suo dimensionamento, 25.000 metri cubi, sono ben inferiori rispetto all'evento manifestatosi con le piogge del 2 novembre scorso. E' quanto emerge dalla risposta di Asle, regione toscana, ad una richiesta di accesso agli atti fatta dalla consigliera regionale Silvia Noferi, la quale si è mossa assieme al consigliere comunale Carmine Maioriello, entrambi del Movimento 5 Stelle, a seguito dell'alluvione che ha causato l'allagamento dell'ospedale. Quello che avrebbe dovuto essere il principale presidio sanitario in caso di emergenze, il 2 novembre scorso subì l'allagamento dei semi interrati, spogliatoi, deposito medicinali e attrezzature, ma anche del pian terreno e del pronto soccorso, mettendo fuori causa per giorni gli ascensori, costringendo le ambulanze a dirottare in altri ospedali i pazienti bisognosi di prime cure e cagionando danni stimati al momento in 8 milioni di euro. Mi vengono i brividi a pensare al solo fatto di cosa poteva succedere se questo alluvione fosse accaduto in un periodo dove le strutture sanitarie, come il periodo del Covid, il periodo della pandemia, dove tutte le strutture sanitarie erano veramente sotto pressione. Ecco, immaginiamo la tragedia quale sarebbe stata, di che portata poteva essere. Dopo l'evento, il Movimento 5 Stelle ha chiesto conto in regione sul funzionamento della cassa di espansione e sulla scelta di realizzare l'ospedale a Galciana. Fu nel 2008 che il Comune di Prato concesse il permesso a costruire senza prescrizioni, in quanto all'epoca l'area non era considerata a rischio idrogeologico. Nel 2010 l'allagamento del sottopasso di Via Ciulli, in cui morirono tre donne, fece salire il livello di attenzione. Nel 2018, così, il nuovo piano strutturale di Prato si adeguò al piano di gestione del rischio alluvioni del 2011 e l'area del nuovo ospedale, nel frattempo già entrato in esercizio nel 2013, diventò a rischio idrico elevato. Soltanto nel giugno del 2020, con il permesso a costruire della nuova palazzina da 100 posti da parte del Comune, interviene la prescrizione di realizzare la nuova cassa di espansione per la messa in sicurezza idraulica della zona. Un'opera da oltre un milione, tuttora non funzionante, perché mancano ad esempio gli allacciamenti elettrici alle saracinesche elettromeccaniche. Un'opera, sottolineano Regione ed ASL, che comunque non sarebbe stata sufficiente a rispondere ai 190 mm di acqua piovuta in cinque ore sul prato ed intorno il 2 novembre scorso. È sorprendente perché c'è il danno oltre la beffa, perché si è capito, anche, ci hanno spiegato, che anche se tutto avesse funzionato perfettamente, la cassa di espansione non sarebbe stata sufficiente per contenere quelli che sono stati i danni dell'alluvione. Quindi dobbiamo ancora capire cos'altro bisogna fare per mettere finalmente in sicurezza il nostro ospedale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha aperto il bando per l'assegnazione dei contributi destinati ad associazioni, istituti ed enti per dare sostegno ai progetti delle diverse realtà attive sul territorio. Nel 2024 la Fondazione mette a disposizione 1.100.000 euro. Viene data priorità al settore educazione, istruzione e formazione, a cui vengono destinate il 40% delle risorse. Agli investimenti nel settore culturale sono destinati il 30% dei contributi, stessa percentuale destinata al settore del volontariato, della filantropia e della beneficenza. Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente online entro e non oltre mezzogiorno di martedì 20 febbraio. Partiranno in primavera i lavori per la riqualificazione del Teatro Modena-Avaiano. Si tratta di un intervento articolato per un'infrastruttura che potrà essere di riferimento per l'attività culturale di tutta la Val Bisenzio. L'intervento di riqualificazione e rifascimento del Cinema Teatro Modena è pronto per partire. La gara per l'affidamento dei lavori è ormai prossima e l'obiettivo è dare il via all'intervento in primavera. L'amministrazione ha appena approvato l'aggiornamento finanziario del progetto per un valore complessivo di 856.000 euro che viene affidato per essere aggiudicato alla stazione unica appaltante per la gestione dei fondi del PNRR presso la provincia di Pistoia con cui il comune di Vaiano è convenzionato. Il sogno di riportare in vita il Modena per metterlo di nuovo a disposizione degli abitanti di Vaiano e di tutta la Val Bisenzio dunque si concretizza. La giunta comunale ha approvato nel corso della sua ultima seduta l'aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e adeguamento. Un intervento coperto per oltre 600.000 euro con i fondi del PNRR che il comune è riuscito ad assicurarsi attraverso un bando. Le altre risorse sono state messe a disposizione dalla stessa amministrazione comunale utilizzando il proprio bilancio. Si tratta di un intervento articolato e per un'infrastruttura che potrà essere di riferimento per l'attività culturale di tutta la vallata. Per il Modena, dopo anni di chiusura nel 2018, è iniziato un nuovo capitolo di storia legato all'acquisto dell'immobile da parte del comune di Vaiano, reso possibile dalla generosa donazione di 300.000 euro dell'Associazione per il lavoro e la democrazia, che è impegnato nel salvataggio del Modena e fondi donati dagli operai della vallata e dell'area pretese ingiustamente licenziati nel secondo dopoguerra e poi risarciti per legge. Ascoltare un concerto della camerata immersi nella magia della musica direttamente sul palcoscenico e tra gli elementi è tutto possibile. Vediamo come. Seguendo l'esempio di alcune orchestra italiane e internazionali, la camerata strumentale di Prato lancia il progetto nei panni dell'orchestra, grazie al quale alcuni spettatori potranno ascoltare il concerto seduti in mezzo ai vari elementi. Un modo per accrescere la consapevolezza all'ascolto e per comprendere meglio ciò che si crea fra il direttore e l'orchestra, vederne da vicino le espressioni, sentire ciò che sentono le musiciste e i musicisti mentre suonano. Perché anche noi naturalmente vogliamo far partecipare il nostro pubblico ad un ascolto attivo, non un ascolto passivo. Vogliamo divulgare il più possibile l'arte musicale nel senso della condivisione più assoluta. E quindi che cosa non c'è di più bello di condividere la musica anche da un altro punto di ascolto, cioè quello dei nostri professori sul palcoscenico del Teatro Politeama Pratese. Per candidarsi ad una poltrona sul palco è necessario inviare una mail a info-cameratastrumentale.org indicando a quale concerto si desidera partecipare. Le prossime date sono il 22 febbraio e 9 maggio. E se si è in possesso di un abbonamento o di un biglietto lasciando un numero di telefono o in alternativa è possibile telefonare al numero 0574 1838 800. La cosa che mi ha colpito di più è stato stare dentro le relazioni fra i musicisti e soprattutto sentirsi accolti da questo corpo vivente musicale che è una cosa speciale, viene da dire mai più senza. Mi sono sentita all'interno della musica e dell'orchestra e quindi era come se facessi parte di loro, ho visto i loro sguardi, i loro movimenti e quindi per me è stata veramente una bellissima esperienza e se c'è la possibilità sicuramente la rifarò. Dalle sensazioni alle previsioni quelle del Consorzio Lamma. Un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Guardiamo insieme il satellite e vediamo come la perturbazione che ci ha interessato nelle scorse ore si sposta verso sud, più ovest è un'area a sgombra da nubi, si tratta dell'anticiclone dell'Azzorre che nei prossimi giorni rinforzerà, interesserà anche l'Italia. Vediamo questa mappa che ci fa vedere l'anomalia della pressione in quota, vediamo questa prevalenza di colore arancione e rosso sull'Europa occidentale, indice della pressione piuttosto alta di un anticiclone che nei prossimi giorni tenderà a invadere gran parte dell'Europa, garantendo tempo stabile ma anche temperature decisamente sopra la media. Passiamo ora al dettaglio della previsione per oggi, vediamo che nel pomeriggio le nuvole se ne andranno abbastanza rapidamente, lasceranno spazio a un cielo sereno poco nuvoloso con venti deboli, mari ancora mossi e temperature rispetto a ieri in aumento fino a 12-15 gradi. Vediamo ora la giornata di domani, in mattinata foschie e banchi di nebbia, qualche addensamento di nubi basse, un cielo localmente velato, temperature minime in diminuzione anche intorno allo zero, specialmente nell'Aretino. Nel pomeriggio un cielo poco nuvoloso con modesti addensamenti, venti deboli, temperature senza variazioni rispetto a oggi, 12-16 gradi, a testi domani i valori sopra la media del periodo. Con questo direi che è tutto. Prima dei saluti vi ricordo l'appuntamento alle 15.15 con la telecronaca della partita di calcio Signa Rondinella e poi alle 19 la stoffa di Prato in compagnia di Arianna Di Ruba e dei suoi ospiti. Stasera ci saranno la cantante Irene Colzani in arte nena, autrice della canzone dell'ultimo film di Leonardo Pieraccioni, Pare parecchio Parigi, Paolo Betti, apicoltore, e il dottore Simone Colangeli, autore del libro La vita è una corsa impazzita verso la felicità, che racconta la sua esperienza da paziente affetto da osteosarcoma guarito e ora ortopedico. È davvero tutto, grazie ad averci seguito, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.